Innesima aggressione a danno di due vigili urbani questa mattina a Torre del Greco. Il fatto è accaduto intorno alle 9, in pieno centro cittadino. AS classe 81, residente a Torre del Greco, è stato arrestato per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il 28enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura di Napoli, in attesa del rito direttissimo. I vigili stavano dirigendo il traffico nella centralissima piazza Luigi Palomba, quando è sopraggiunta una vettura con alla guida una donna, che doveva svoltare per via privato del gatto. Nella manovra l'auto della donna è finita con la ruota sul piede del vigile. L'agente di polizia municipale ha così invitato la donna a fermarsi e le ha chiesto i documenti. I problemi sono iniziati quando il vigile si è accorto che la donna era sprovvista di patente. Nel frattempo è arrivato il figlio, che per evitare che la madre prendesse il verbale, ha aggredito due vigili urbani. Nel giro di pochi minuti dalle parole si è passati ai fatti. Prima uno schiaffo all'agente di polizia municipale, che aveva chiesto i documenti alla madre. Il vigile è stato colpito in pieno volto e ha riportato una lesione guaribile in cinque giorni. E' sopraggiunto poi un altro agente per cercare di sedare la lite. Nella colluttazione a esse ha colpito il secondo vigile intervenuto con una gomitata nello sterno ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. A piazza Luigi Palomba sono giunti anche gli operatori del 118. A seguito dell'aggressione la donna ha avuto un valore ed ha perso conoscenza. Gli agenti di polizia municipale sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Le operazioni sono state condotte dal tenente Antonio Oculato. Non è la prima volta che si verificano aggressioni a danno dei caschi bianchi in città. Sulla questione è intervenuto Antonio Borriello, portavoce del sindaco Ciro Borriello, che è anche il responsabile della polizia municipale sul territorio. E' l'ennesima aggressione alla polizia locale a Torre del Greco. Ne siamo profondamente colpiti, sconvolti. Non è possibile perché veramente si ripercuote su tutta la collettività civile. Sono fatti che non dovrebbero mai accadere. Un'aggressione a un pubblico ufficiale che non fa altro che tutelare noi tutti per strada, sulla sicurezza, su tutto quello che riguarda il rispetto delle regole, delle leggi. Ne siamo veramente allibiti. E' una questione che veramente ci rammarica. E non facciamo altro che noi esprimere sdegno per quanto è successo. Solidarietà al comando dei vigili. E speriamo veramente che si possa rinsavire e mettere fine ad una condizione insopportabile. I vigili urbani sono dei nostri collaboratori. Non hanno altro da fare, non hanno altro da tutelare se non noi stessi. Perciò quello accaduto stamattina è veramente da stigmatizzare in modo determinato.